Eccoci qua con lo chat noccio che oggi ci delizia con che specialità? Oggi facciamo un excursus sui primi piatti della cucina romana o romanesca perché comunque è una tradizione popolare quindi parliamo appunto di questi quattro pilastri che sono la cacio e il pepe, la grecia la grecia non lo mai senti? La grecia, sì, è l'antenata della matriciana senza pomodoro poi naturalmente la matriciana e la regina di tutta la cartonara la regina delle ricette che hanno tutti poi d'altronde un'origine univoca univoca dei pastori che durante la transumanza, i pastoreacruzzesi si portavano con sé delle cose facilmente che potessero cucinare come il guanciale, come il pecorino anche di conservazione si, si, come conservazione e la pasta e da lì nascono le quattro ricette ogni chef ha il suo estro, ha la sua creatività però oggi parliamo esclusivamente di come si facevano, come sono nate e esaltare i sapori con le materie prime che sono fondamentali vediamo l'ora di attrattare beh, volentieri grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.